ciao a tutti mi invento al momento una torta in tazza guardate che bella tazza fatta al microonde chi non ama il microonde e ne ha tutti i diritti poi può cuocere anche in forno niente dosi non vi do dosi né niente io me la invento al momento vediamo cosa salta fuori no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guardate, è veramente incredibile, non avrei mai immaginato, è uno spettacolo. Cinque minuti, gli ingredienti li avete visti improvvisati, quindi ho usato più o meno due cucchiai di farina, la mezza mela, 4-5 cucchiai di latte di soia, un po' di cannella, la buccia grattugiata di mezzo limone e ragazzi ha mezza bustina di lievito e questo è il risultato. Guardate dentro, io ne ho già assaggiato, guardate dentro com'è. Eh? Che ne dite? Adesso ne assaggerò un altro cucchiaino insieme a voi. Io ho usato il microonde, voi potete farlo anche in forno, so che c'è chi non ama il microonde. Io non lo demonizzo, lo uso poco. Che meraviglia! Ma neanche lo demonizzo. Qualc'è? Devo dire che a volte è comodo, è uno spettacolo ragazzi. No, è troppo buona, veramente, non avrei mai creduto. Con questo video e con questo dolce assolutamente improvvisato, finisco il video, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video con un'altra proposta vegana o vegetariana, questa è totalmente vegana, iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento e arrivederci e buona merenda a tutti!